Ciao ciao a tutti, buon pomeriggio, bentornati o benvenuti sul canale. Siamo arrivati all'appuntamento consueto con la piccola rubrica che faccio in compagnia di Stefania, la mia amica Stefi del canale Paravana Stefania. Tramite questa rubrica, tramite questo piccolo appuntamento, ogni mese vi raccontiamo quali sono i nostri profumi del mese appena trascorso. Grazie a questa rubrica e grazie ai profumi sta proprio diventando una bellissima amicizia che spero si possa anche concretizzare nell'incontrarci fisicamente, perché mi piacerebbe tanto conoscere la Stefi e sono certa che questo tra poco avverrà. Ma veniamo ai profumi che ho scelto questo mese, sono dei profumi un po' particolari, un po' diversi. Due mi ricordano delle persone, di questi due uno mi ha fatto fare un viaggio emozionale pazzesco, senza rendermene conto, e ve li racconterò pian piano. Il primo profumo è lui, Eau de Rochard, detto alla francese, di Rochard Parise. Questo è un profumo che io ho portato tanti tanti anni fa, poi ho cambiato, è un profumo che mi è sempre piaciuto ed è un profumo che mi ricorda una persona molto particolare che poi vi racconterò. Questo è il flacone, che trovo di un'eleganza meravigliosa, molto retro, ma sempre comunque molto alla moda. Un flaconcino di profumo che potrebbe stare benissimo sulla toilette della nonna, perché io purtroppo la toilette non ce l'ho. Fragrantica riporta queste informazioni, allora è un agrumato aromatico speziato fresco, legnoso terroso, muschio vegetale verde. Eau de Rochard viene lanciato sul mercato nel 1970, alla mia età, ed è per quello che lo amo tantissimo. È una fragranza del gruppo agrumato aromatico da donna. Le note di testa sono lime, limone, basilico, bergamotto, pompelmo, mandarino e verbena. Le note di cuore sono coriandolo, paciuli, garofano, narciso, gelsomino e rosa selvatica. Le note di base sono muschio di quercia, vetiver, muschio, sandalo e ambra. Allora, già che venga presentato come un agrumato aromatico da donna, per me è assolutamente unisex, perché non è un profumo leggero, è un profumo che si fa sentire, è un profumo che in questo mese mi ha accompagnato in maniera molto piacevole, perché è un profumo che secondo me ha la capacità di mantenere il giusto distacco, o almeno per me. Quando io l'ho indossato, ho voluto indossarlo proprio per dare un limite a tutto quello che c'era intorno, alle persone che mi richiedevano troppo, alle persone che tante volte si confidano, mi raccontano. E io poi alla fine mi faccio carico di tutto, sia nella vita personale che comunque sul lavoro, e ho deciso che ad un certo punto bisogna metterci un limite. E me lo sono imposto con questo profumo, ma poi capirete perché. Allora, è un fresco aromatico, sicuramente un profumo molto agrumato, molto fresco, dove tutti questi agrumi si sentono in maniera molto molto forte, sento tanto il basilico, sento il lime, quel profumo di scorza quasi amaroniola, verde, fresca, che è molto intensa, ha un succo, ha quasi un olio essenziale particolarmente intenso. Per me è un profumo meraviglioso e è un profumo che si fa sentire e quando lo indossate si sente tranquillamente. Allora, all'inizio c'è questo mix molto fresco, ma comunque non leggero, molto intenso, molto agrumato, quasi amaroniola. Poi pian piano io non sento moltissimo le note fiorite in questo profumo. Passo direttamente dalle note di testa alle note di cuore, perché poi alla fine ci sento proprio il muschio, il vetiver, il sandano e l'ambra. Ed è per quello che secondo me è anche benissimo un profumo unisex, perché comunque ha questo mix di profumi e di note che sono prettamente a volte anche maschili e quindi l'agrumato con queste note rende veramente una fragranza tranquillamente unisex. È un profumo non dolce, un profumo che potrei definire austero, rigoroso, che vuole creare, come dicevo prima, una certa distanza, ma sempre con rispetto. Un profumo che, anche se è datato, perché questo profumo nasce nel 1970, viene presentato sul mercato nel 1970, lo ritengo molto attuale, molto raffinato, non eccessivo, molto elegante. È un profumo che va bene per qualsiasi tipologia di giornata, lo vedrei benissimo anche in un'aula di tribunale, lo vedrei benissimo indossato da un insegnante in un'ora di lezione oppure in ufficio. E questo profumo, o comunque questa tipologia di profumo, mi ricorda la mia professoressa. La mia professoressa di matematica, la signora Amalia Beretta, una donna splendida, una bellissima donna che ha insegnato matematica al liceo, una donna che sapeva mantenere la distanza per quello che era il rapporto insegnante e alunno, ma che ci ha sempre trattato con rispetto, con intelligenza e con un'eleganza che pochi insegnanti hanno avuto. Una professoressa che mi ha dato tantissimo, nonostante io abbia avuto tutti gli anni l'esame di matematica o di fisica, perché lei insegnava matematica e fisica. Un'insegnante che io ho adorato proprio per la sua autorevolezza, non era autoritaria, ma quando tu la vedevi, sapevi che il tuo comportamento doveva essere quello, sapevi che c'era una certa distanza, sapevi che potevi creare un rapporto di rispetto, di conoscenza, di amicizia, ma che lei era la professoressa e che tu eri l'alunno. E questa cosa a me ha sempre colpito. Mi è stata veramente una delle professoresse che ha toccato di più il mio cuore, nonostante la materia che insegnasse. è una donna elegantissima, capelli sempre ordinati, con delle mesh occhi azzurro ghiaccio perfettamente truccati, un fondotinta meraviglioso, rosse le labbra sempre, sempre con la gonna, io non l'ho mai vista con un pantalone, penso di averla vista pochissime volte con un pantalone, un tubino molto elegante, scarpe col tacco, sempre vestita con dei brand ai tempi abbastanza di marca, abbastanza gussuosi, una donna che rappresentava classe, ma non quella classe mostrata, esposta così al pubblico perché voleva farsi vedere, proprio quella classe che è classe, che è vera classe. e me la ricordo appunto così, con questi twin set colorati, sempre molto ordinata, con dei foulard di seta, e niente, e questo profumo me l'ha proprio ricordata, quindi un profumo che ovviamente non mi ha fatto sentire come lei, perché non sono come lei, io non sono elegante, non ho tutte queste caratteristiche, ma che mi ha fatto ricordare come era il suo carattere, il suo mettersi come insegnante all'interno della classe, e quindi quando l'ho sentito, io non so se lei abbia mai portato questo profumo, ricordo che aveva un profumo alcune volte che era molto molto dolce, però non ricordo quale fosse, e nulla, quindi questo mese diciamo che questo profumo io l'ho proprio cercato, per far capire agli altri che siccome io sono tanto brava, ma poi alla fine ad un certo punto devo prendere le distanze, questo profumo mi ha fatto prendere le distanze in alcuni momenti lavorativi, o anche di vita privata, di vita sociale, insomma, la egli c'è, ma non è sempre disponibile, ecco, e questo profumo mi piace davvero tantissimo, un profumo che è assolutamente unisex, un profumo elegante, un profumo che se non l'avete mai provato vi consiglio di annusare, perché se siete degli anni 70 come me, io penso che vi possa piacere, continuiamo prima che venga notte, perché questa videocamera mi sta facendo diventare matto, allora, il secondo profumo è questo, Happy Chopard Lemon Dulci, un profumo che già dal flacone richiama il sole, richiama la primavera, richiama qualcosa di fresco, allora, è un agrumato aromatico verde, speziato fresco, fruttato e fresco, Happy Chopard Lemon Dulci di Chopard, è una fragranza del gruppo agrumato da donna, è stato lanciato sul mercato nel 2018, le note di testa sono limone, bergamotto, mandarino, sciso, che è una pianta aromatica, sono andata a cercare orientale, che è simile al basilico, però molto più piccantina, quindi tra basilico e zenzero, ha un po' questo profumo, questa nota, le note di cuore sono, fiore d'arancio, mango, mela, cetriolo, che io amo particolarmente nei profumi, le note di base sono menta e note legnose, allora, è un profumo primaverile, estivo, oserei dire, molto molto fresco, appena lo spruzzate, a me ricorda tantissimo, un bicchiere di tè ghiacciato, con due fette di limone e una foglia di menta, è buonissimo, è fresco, dissetante, un profumo estivo, leggermente dolce, ma non tanto dolce, è proprio il profumo di un bicchiere di tè freddo d'estate, quando voi avete quella arassura, quel caldo pauroso, e vi bevete un bel bicchierone di tè freddo, zuccherato, non troppo, con del limone e una foglia di menta, al primo spruzzo è proprio questa fragranza, poi, devo dire che, diciamo, questo impatto così fresco, pian pianino si affievolisce, ed escono un po' le note dello zenzero, questa nota un po' aromatica dello sciso, che basilico, zenzero, un po' piccantina il fiore d'arancio, poi si sente la dolcezza del mango, sicuramente perché si sente proprio bene, la mela e il cetriolo, cioè rimane veramente per tutta la giornata, e questo dura tantissimo, cioè dura tutto il giorno, su di me rimane veramente un profumo fresco, arioso, leggiadro, frizzante, dissetante, molto molto bello, un profumo perfetto per la primavera, ma lo trovo veramente indicato anche per la prossima stagione, perché questo è un profumo che anche con delle temperature davvero molto calde, con un'afa opprimente come quella che abbiamo avuto in queste stati, non dà assolutamente fastidio, anzi rinfresca e ci regala ariosità, briosità, allegria, sembra quasi dissetare esso stesso proprio nello spruzzarselo attorno, è davvero un profumo che mi è piaciuto particolarmente, molto molto buono, lo trovo bilanciato, agrumato, fruttato, non troppo dolce, proprio quel mix che ci serve in una calda giornata, o primaverile o estiva. ed è un profumo che regala freschezza e benessere, ecco l'ho trovato veramente un profumo che regala un benessere pazzesco, ti fa sentire bene, ti fa sentire fresca, ti fa sentire pulita, è un profumo buonissimo, io questo ve lo consiglio, secondo me può piacere davvero a tutti, perché è proprio quella nota tra il fruttato non troppo forte, il floreale non troppo intenso, che si mescola e crea un mix davvero molto molto piacevole, e molto delicato, quindi anche questo è consigliatissimo. Mi sono ovviamente dimenticata di dirvi di questo, che penso non ci sia bisogno comunque di dirlo, è un profumo che si sente tutta la giornata, e oltre ovviamente perché è un profumo very strong, molto molto buono ma very strong, mentre questo rimane per tutta la giornata, ma è di una delicatezza, di una briosità, di una leggerezza, che è davvero meraviglioso. Il terzo profumo, che non avrei mai detto di mettere in questo, che avrei messo in questo periodo, è Lilla, scusate, lo faccio vedere dall'altra parte, Lilla di Lerbolario. Allora, Lilla di Lerbolario per me è un profumo proprio adatto a quelle giornate che in questo mese sono state particolarmente fredde, particolarmente ventose, particolarmente ricche di pioggia, quelle giornate che hanno avuto una connotazione ancora molto molto invernale, autunnale, almeno qui a Lecco ce ne sono state parecchie, tant'è che per alcuni giorni, noi alla sera abbiamo comunque ricominciato ad accendere la stufa, quell'orettina che ti scaldava, toglieva l'umidità, ma si sentiva davvero molto molto piacevolmente il calore della stufa, anche se eravamo ad aprile. Allora, Lilla di Lerbolario è un floreale, floreale bianco, ambrato, talcato, fresco, legnoso, agrumato, vanigliato, dolce e speziato caldo. Allora, dicono da Fragrantica che assomigli ad Alien e che sia il group di Alien, io non conoscendo Alien non lo posso dire. Certo è che questo profumo mi è piaciuto tantissimo. Allora, è un profumo che viene lanciato sul mercato nel 2017, le note di testa sono Nero, Lipesca, Cardamomo, Bergamotto e Arancia. Le note di cuore sono Lilla, Gelsomino, Indiano, Violetta, Labdano e Fava Tonka. Le note di base sono Ambra, Paciuli, Vaniglia, Lenudicedro e Muschio Bianco. Allora, la maggior parte delle persone lo caratterizza proprio come un profumo invernale. sono d'accordo, è un profumo invernale perché è un profumo molto avvolgente, molto coccoloso, è un profumo da sciarpa, è un profumo nei suoi accordi anche abbastanza intenso anche se poi su di me dura due o tre ore non di più e poi se lo voglio risentire comunque lo devo rispruzzare altrimenti davvero rimane veramente molto leggero e non fastidioso. Si sente all'inizio questo mix di fiori abbastanza intenso che poi diciamo vira verso il Paciuli, verso la vaniglia c'è anche questa dolcezza alla fine della vaniglia ma non l'ho sentito così pesante così intenso da non poterlo mettere in questo periodo. Non lo so se poi con una temperatura relativamente alta si possa ancora indossare io l'ho trovato davvero un profumo molto molto piacevole adesso vediamo lo spruzziamo qua allora è un profumo sì molto fiorito soprattutto all'inizio dove il lilla si sente io ci sento anche il gelsomino diciamo che non sento tutto quel gruppo di note che sono la pesca il bergamotto l'arancia ecco io queste non le percepisco percepisco molto tutto il mix fiorito quindi lilla il gelsomino la violetta la violetta si sente e poi pian piano diciamo esce un po' la dolcezza della vaniglia il legno di cedro il muschio ma non è sicuramente io non lo definirei comunque un profumo fresco lo definirei un profumo talcato un profumo dolce un profumo vanigliato e un floreale ecco questo secondo me è questo profumo è un profumo che davvero ho portato con molto piacere perché nonostante io ami la primavera comunque la mia stagione preferita è sicuramente l'inverno e nelle giornate fredde non vi dico che ho gioito ma io ho gioito cioè a me piace comunque rientrare dal lavoro che fuori c'è il freddo magari c'è il vento oppure la pioggia e io se riesco fortunatamente a stare in casa per me mi piace tantissimo nel senso che è proprio quell'atmosfera che mi piace che vado a ricercare se posso stare a casa tranquilla a fare le mie cose le mie faccende le faccio volentieri e se il tempo fuori è brutto ancora meglio perché mi fa sentire al sicuro mi fa sentire riparata e questo profumo ha un po' questa caratteristica è un profumo davvero delizioso io non l'ho trovato così invadente o molto persistente come alcuni lo hanno descritto l'ho trovato sicuramente un profumo molto coccoloso che ti abbraccia che ti avvolge che ha queste note particolarmente intense ma proprio soltanto verso la prima ora dei due ore poi pian piano affievolisce e crea proprio un profumo molto rotondo molto è molto da coccola molto da sciarpa mi è piaciuto davvero tanto soprattutto direi in quelle giornate particolarmente uggiose anche se nonostante adesso ci sia un bel sole fuori comunque la mattina e alla sera qui da noi è ancora freschino quindi lo si porta tranquillamente con estremo piacere estremo piacere ed ora veniamo all'ultima scoperta potrei emozionarmi ve lo ve lo dico perché è un profumo che io non mi aspettavo di trovare soprattutto di vivere queste emozioni il profumo di cui sto parlando è Pongranite di Jenny Glow allora mi pare di aver capito che Jenny Glow comunque fa alcuni profumi di ispirazione io non so a cosa si ispiri questo non l'ho trovato ma non mi interessa neanche saperlo perché l'ho comprato perché vi ho detto che in questo periodo sono in fissa con il profumo al melograno e io me lo sono comprato peccato peccato che c'è Cody che deve entrare e quindi lo facciamo entrare se no mi rovina tutta la porta peccato che del melograno qui non c'è neanche l'ombra ora vi racconto questo profumo allora un profumo fruttato legnoso per uomini e per donne unisex adatto all'uso quotidiano in testa abbiamo fragola peperosa melone in cuore abbiamo warwood paciuli chiodi di garofano nel fondo abbiamo vaniglia muschio ed ambra e queste sono le cose oggettive che io ho trovato questo questo però per me è stato un viaggio emozionale davvero molto intenso quando io l'ho spruzzato mi sono ritrovata in due secondi nella cantina del mio papà lo spruzziamo di qua perché questo è un profumo droga nel senso che io lo continuo a rispruzzare perché ho queste immagini allora premetto che tutti i profumi di Jenny Glow a me piacciono tantissimo è il quarto che posseggo è il quarto che amo la follia altri due poi ve li dovrò presentare ma secondo me sono veramente buonissimi allora io non so se vi racconterò le note di questo profumo vi racconto quello che ho fatto il viaggio temporale che ho fatto allora con questo profumo come vi dicevo ho fatto un viaggio temporale mi ha riportato nella cantina creativa del mio papà il mio papà è sempre stato una persona molto creativa molto eclettica probabilmente qualcosina ho preso da lui e dopo che ha avuto la possibilità di andare in pensione molto giovane perché mio papà è nato in pensione a 45 anni perché la sua azienda era stata conglobata in una multinazionale tedesca era stata acquistata e quindi ai dipendenti che erano da tanti anni a lavorare lì mio papà ha cominciato a lavorare a 11 anni avevano offerto il prepensionamento con 4-5 anni di pensione pagati di stipendio pagato e quindi lui ha preso la palla al balzo lui ha sempre amato andare in montagna è stato un esperto scalatore un forte scalatore un organizzatore dell'Egitte del cai amava le erbe aromatiche amava fare i liquori amava andare per minerali lui ha sempre avuto una raccolta di minerali molto importante che poi alla sua morte è stata donata al museo insomma una persona che aveva moltissimi interessi e nella casa in cui abitavo prima di sposarmi c'era una cantina che lui prese in affitto e lì ci faceva tutte le sue creazioni quindi gli alambicchi con il liquore le erbe a macerare per tutte le sue pozioni magiche per mi ricordo che aveva curato per esempio un problema ad una gamba un problema di circolazione ad una gamba di una mia zia anziana che il medico poi dell'ospedale ha voluto conoscere mio papà perché aveva usato una erba che da noi si chiama erba cavallina che è una pianta che cresce nel bosco nelle paludi nelle zone molto umide lui l'aveva messa a macerare aveva trovato una ricetta insomma praticamente aveva ricostruito la pelle di tutta la gamba lacerata della mia zia e quindi vabbè era una persona un po' un po' creativa poi alcune volte le andava bene altre volte magari li venivano fuori di quelle schifezze ma vabbè fa parte del gioco amava andare in montagna fino a quando non è rimasto paralizzato quindi a 65 anni diciamo che il suo abbigliamento sportivo era pari a quello che esibiva negli anni 60 quindi lui andava rigorosamente a scalare sia su ghiaccio che su roccia con gli scarponi di pelle quelli grossi cioè gli scarponi che usavano una volta la camicia di flanella i pantaloni perché è quello che ripara dal caldo ripara anche dal freddo quindi lui era sempre vestito così ha portato molto molto faticosamente le cose moderne che noi gli regalavamo magari il pie il colorato la camicia che ti lasciava traspirare dal sudore tutte queste nuove accortezze che magari rendevano anche la vita dell'alpinista molto più comoda e colui le aborriva cioè proprio queste cose non gli piacevano e quindi la sua cantina era un miscuglio di profumi di erbe di spezie noce moscata il profumo del cuoio degli scarponi appena ingrassati dopo aver fatto una scalata il profumo dello zaino che portava addosso il profumo magari anche del sudore della fatica di quando lui aveva scalato ed era andato a fare una gita in montagna e spruzzando questo profumo io sono lì sono lì in quella cantina in quella cantina e sento delle note che io non so se qui dentro ci sono comunque sento il profumo del cuoio sento il profumo della camomilla alpina che sta seccando per fare il liquore sento il profumo del genepì che sta macerando nella bottiglia di vetro con l'alcol per fare il genepì sento il profumo del guscio delle noci del mallo delle noci che sono a macero per fare il nocino sento il profumo del lunguento che lui faceva con delle erbe particolari per poi massaggiarlo sulle gambe quando c'erano i dolori della camminata sento il profumo degli scarponi ingrassati sento il profumo della pelle del mio papà mio papà è una persona che non ha mai indossato nessun tipo di profumo se non il deodorante intesa o il denim per l'uomo che non deve chiedere mai che erano le solite fragranze che io fin da quando ero piccola quando ho smesso di regalargli la stecca di MS alla festa del papà o al compleanno gli regalavo quindi alla festa del papà o la stecca di sigaretta oppure il profumo o il deodorante intesa o il denim lui non li ha mai messi però in questo profumo c'era chiuso c'era chiuso lui e quindi io non vi so dire le note non so direvi se io ritrovo le note che ci sono qui dentro perché tutto quello che sento qui si chiama Gianca che è il mio papà e questo è il profumo che me lo ricorda quindi quando io così molto inconsciamente mi sono spruzzata questo profumo che non avevo provato perché non lo trovo in nessuna profumeria qui a Lecco ma avendo già provato altre profumazioni di Jenny Glow mi sono fidata ed ho fatto bene questo sarà sicuramente uno dei profumi miei preferiti da qui all'eternità perché quando vorrò ricordare il mio papà me lo spruzzerò e qui dentro in queste fragranze ci sarà lui quando vorrò così avere un po' meno la malinconia perché nonostante i miei 53 anni diciamo io penso che la mancanza di un genitore si senta sempre io sono stata fortunata perché mi ha accompagnato fino a quando ho compiuto i 50 anni però penso che comunque l'affetto che ci leghi a un genitore non abbietà il papà e la mamma sono sempre il papà e la mamma a qualsiasi età si perdano ecco alcune volte io sento molto fortemente la sua mancanza io sono figlia unica e sono stata legata a lui con un affetto che mi ha regalato molta libertà penso che il regalo più bello che mi abbia fatto mio papà nella mia vita è stato quello di lasciarmi libera in tutto e per tutto in qualsiasi scelta sbagliando o non sbagliando senza mai recriminarmi che io avessi sbagliato quando sbagliavo ma lasciandomi proprio la capacità di decidere di essere libera nella mia vita e questo io l'ho apprezzato tantissimo e penso sia il dono più bello che un genitore possa fare far sentire i propri figli liberi e non legati a loro e quindi niente che vi devo dire questo è un profumo meraviglioso questo è un profumo che mi ha toccato l'anima che mi ha fatto fare un viaggio temporale emozionale molto forte è un profumo che secondo me è comunque molto particolare non può piacere a tutti è molto speziato è molto intenso è noce moscata è chiodi di garofano non so probabilmente penso di non essere molto obiettiva nel giudicare questo profumo ma se avete l'occasione di provarlo sentitelo e chissà cosa ricorderà a voi ecco stavo dicendo spero di essere riuscita in qualche modo a tirare insieme un video perché tra le interruzioni tra codi che andavo fuori fuoco tra che ho dovuto risistemare la scheda due volte perché mi sta lasciando la schedina della memoria della videocamera quindi mi auguro di essere riuscito a portare a termine questo video in maniera abbastanza decente io vi ringrazio per avermi seguito anche in questo lungo cammino dove vi racconto i miei profumi vi lascio ovviamente nell'info box il link al canale di Stefania e al suo video la ringrazio per questa bella amicizia che ormai è nata perché non sta nascendo sta comunque crescendo e anche per questo piccolo progetto che abbiamo iniziato qualche mese fa che è molto bello ci fa così puntare il fuoco su dei profumi particolari per il mese e ci dà la possibilità anche di fare un viaggio olfattivo soprattutto come in questo video ho fatto io diciamo con questi due profumi principalmente perché mi hanno fatto ricordare due persone grazie buona serata ciao a tutti grazie a tutti